Cambia il mondo del volontariato che è capelli un po' più grigi e fornisce un valore di relazioni umane sostanziali anche per il territorio veronese. I volontari sono impegnati in vari ambiti, dalla donazione di sangue alla protezione ambientale, dalle situazioni di fragilità alla promozione culturale. Stiamo realizzando proprio in questo periodo una mappatura degli enti del terzo settore sulla provincia di Verona, proprio per adeguarci a queste riforme normative, per conoscerle meglio, per capire come lavorano. Sono circa un migliaio dai dati che abbiamo in nostro possesso e dai registri che esistono a livello regionale tra organizzazioni di volontariato, organizzazioni di promozione sociale e le ex on-lust, questa realtà che andrà a scomparire con la riforma del terzo settore, che operano sul territorio della provincia su tutta una serie di attività importanti per le comunità locali, per l'ambiente, per la salute. Il Centro Servizio Volontariato di Verona è impegnato anche sulla formazione dei volontari, perché tante volte la buona volontà non basta per essere efficaci e soprattutto è fondamentale la trasparenza delle associazioni. Sono in 33 ad avere il marchio Merita Fiducia del CSV. Per il Centro di Servizio per il Volontariato di Verona trasparenza vuol dire Merita Fiducia, il nostro marchio certificato che accompagna le associazioni a diventare più trasparenti nel senso di sapersi raccontare, saper portare avanti la loro buona causa, in questo modo saper valorizzare e promuovere i loro volontari e fidelizzarli, ma anche un'attenzione particolare al donatore, al donatore economico, colui che sostiene economicamente le nostre attività. Quindi l'idea di saper raccontare in che modo vengono spesi i fondi raccolti è assolutamente importante. A fare volontariato sono anche tanti giovani che possono acquisire competenze spendibili in ambito lavorativo, lo fanno però in modo atipico e meno strutturato ad eventi o per brevi periodi. I giovani si relazionano al volontariato probabilmente in modo diverso rispetto a quello dei volontari tradizionali. Occorre vedere le cose dal loro punto di vista, cosa che ci risulta a volte un po' difficile. Il centro di servizio ha impegnato su tanti fronti nell'ascoltare i giovani, prima di tutto i loro bisogni, le loro aspirazioni, e nel pensare che il mondo del volontariato può offrire uno spazio importante anche per le loro aspirazioni e per le loro competenze. Grazie a tutti.